La gara più interessante della decima nel girone B di promozione è quella tra Rapino Maiella e Città di Montesilvano 2024. Al Di Fazio si affronteranno due formazioni che contano gli stessi punti, 16 a testa e sono in piena zona play-off. La scuola di Mister Dorazio che conta sulle reti di Gino Pizzi, autore di una doppietta domenica scorsa a Francavilla. Noi pensiamo a noi e vediamo di portare più punti a casa in modo tale di stare i più sereni possibili. E' ovvio che adesso il bomber non si vuole fermare e domenica contro il Montesilvano vuole proseguire la striscia. Dai ci proviamo ovviamente, testa domenica e speriamo che vada come deve andare. Tra i più giovani in rosa anche il classe 2006, Cristian Auriti, punto di forza della formazione Juniores Nero Verde a punteggio pieno dopo quattro giornate. Con la Juniores molto bene, siamo partiti con quattro partite e quattro vittorie, adesso siamo primi, ce la lottiamo con la provasto per la prima posizione, siamo a pari punti, ma l'importante come ci ha ribadito anche il Mister è sicuramente crescere in vista del prossimo anno e dei prossimi anni che comunque siamo ancora molto giovani. Domenica avrete un'altra gara importante contro il Montesilvano, squadra anche composta da giocatori esperti. Sì, sicuramente un'importante partita, una squadra tosta come tutte le altre di questo campionato di promozione, però siamo una grande squadra e siamo un grande gruppo e questo penso che sia già un grande risultato, adesso un grande gruppo.